L'Università degli Studi di Perugia ha celebrato l'assegnazione del riconoscimento Bartolo d'Oro e la premiazione delle migliori tesi di laurea dell'anno accademico 2021-2022. Il Bartolo d'Oro è un riconoscimento dedicato alle personalità illustri che hanno studiato all'Università di Perugia, ispirato alla figura di Bartolo da Sassoferrato, eminente maestro del diritto civile e ambasciatore della città. Il premio è stato conferito a laureati che si sono distinti nelle rispettive carriere professionali, contribuendo così a promuovere il prestigio dell'istituzione accademica perugina. Tra i premiati figurano la scienziata Ilaria Capua, la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, le diplomatiche Patrizia Falcinelli e Mailinda Frangai, lo scienziato Pier Giuseppe Pellici e il magistrato Sergio Sottani. Il premio consiste in una medaglia con l'effigie di Bartolo da Sassoferrato e il sigillo dello studium generale e i nominativi dei premiati saranno inseriti in un apposito albo d'oro dell'Università di Perugia. La cerimonia rientra nelle iniziative della prima edizione della giornata nazionale delle università italiane, denominata Università Svelate, promossa dal Ministero dell'Università e Ricerca e dalla Conferenza dei Rettori, con l'obiettivo di sensibilizzare la società sul ruolo e sulla missione del sistema universitario nel contesto della ricerca, della didattica e dell'engagement pubblico.